eccoci tornati su life is strange true colors e siamo qua e andiamo avanti un po nella storia per vedere di vedere che cosa succede perché sono molto curioso come se cambiamo c'è ma i risultati e andiamo da judge allora vediamo questo telefono allora andiamo 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 da judge andiamo a vedere che cosa ci può dire hey dad there she is have a seat something tells me you've had a more exciting spring festival than you planned for you saw pike arrest me and let you go apparently then there's that business with ryan and steph earlier today i wasn't sure why it took all three of you to work out diane's lunch order i know you're used to looking out for yourself gabe was like that but haven's a community we help each other i want to help you but first you have to let me know what's going on tanto beviamo hola typhon killed gabe i have proof what proof i stole it from diane e-mails and documents proving there was a second explosion the night gabe died to cover something up jed some secret they buried i don't know what it is i don't even know what to do next but i'm not giving up not ever i know what they're hiding sapevi tutto wait you're telling me you knew that typhon's crooked this whole time typhon's the devil that runs this town i've been carrying their secrets for far too long i know what they buried in the mountains tell me i'll do one better nephew um uh 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 you know how much of it i blow up yeah oh bruttissima storia brutta 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 there up ahead where are we middle of nowhere about two clicks that way is the mining site where you search for ethan five clicks that way is town what is this thing ventilation shaft they're scattered everywhere over the years mines grow into mines creating a labyrinth under haven what you're searching for is down below why are you sad i'm sorry kid okay just put the gun down i tried to talk you out of it scare you off i was sure those pictures of ryan and steph would do the trick but you were relentless won't leave damn well enough alone you don't have to do this i do 12 years ago i made a mistake the kind of thing that you you can't undo but typhon made me a deal a way to save my town give my boy a normal life i never wanted gabe to get hurt go to hell pezzi di merda lo sapevo che pezzi di fango capitolo cinque lato b welcome back alex do you want to talk about your time in colorado let's start with something positive what did you learn from your visit to haven springs i thought i learned what it means to make a place your home that must have felt like quite the victory let's talk about how it feels to know that you might have been wrong i suppose i'm proud of you for trying you helped some people chase the mystery a quindi siamo ancora vivi per alex you're right back where you started o è tutta una cosa fa successo nella nostra testa you don't know anything alex you don't even know you're not really here you're not really here you're right what the fuck what does it feel for you family Eh no, siamo noi, con la Gabe. Però fammi, allora, quella è la porta. Ok, allora, prima di andare sul fascicolo, voglio provare a vedere la chitarra. Ok, ok. Eh, la mia chitarra. Noc, noc. Eh, Alex Chen. La mia chitarra non ha mai parlato di me. Sicuramente. Ah. Ora. Allora, poi qua. Asi di gli stadi d'animo. Allora ci sarà qualcosa con il fascicolo, perché l'unica cosa che è qua in giro. Alex Chen. Credo che questo è io. Caso numero 53322. 53322. Leggi. L'incinenzione visuale, l'incinenzione uditiva. Che cosa vedete? Ah, qua comunque diciamo... vediamo se c'è questo codice qua allora 5 3 e si apre molto bene ripara proviamo suonare ai ai forse adesso ci risuliamo giù della miniera devo vedere ecco mi ha fatto un bel capitombolo brutta storia caput definitivo questo giro non ci possiamo salvare anche così ecco mi sa che questo è un altro ricordo no grazie a tutti 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 ok grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti papà grazie a tutti grazie a tutti la stanza di un ospedale grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti La mia mamma aveva spiegato con le lecce quando era preoccupata. Era sempre troppo freddo in questa ruota. Niente altro? Ok. Brutta storia. Guarda, guarda. Oh tui. Gaide, Alex! un po' di tempo a l'hospitalo. Ma? Sei ok? Sì. 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 Quanto i vapa? Sì. 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 Come si è bravo, ragazzi. Come si è così bravo? È così come si è venuto? Non credo che hai perduto qualcosa? Ow! Gabe, why? Non ho fatto nulla. Stop. Bli te, te. Dad. Behave. Alex vai da tua madre Vai da tua mamma Ok Ok Stiamo ripercorrendo la stessa cosa di prima Letto rivista Ah vedi qua l'acqua Nella stessa cosa di prima Quindi riparliamo con la nostra madre Hi mom 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 Water Alex Get her some water Yeah, yeah, veloce, veloce Prendi Thank you You almost never cried Even when you were very small Did you know that? That's been my biggest challenge with you How do you take care of someone Who is already so strong? Who is she da od? No tears My strong girl I want you To make me a promise Your brother Your father They are going to need you You have to be strong Will you do that? Alex Alex Such a brave girl How do you ever get so brave? You have to be strong God In modo che sono tornati. 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 La prima volta che hai parlato con lei? Mom. I... 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 But what are we supposed to do now? We gotta eat? We can sell some records, or... Or what about my guitar? We can sell that! Alex! I... 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 I'm so tired of you using her as a excuse to be a piece of shit! Don't fucking touch me! P ihre... ... Dad... Dammit Alex I'm ok It's ok It was an accident Alex Dad Dad it's ok Really I'm not hurt I can't do this Dad Dad Someone will come That woman from CPS Someone Dad Dad I'm sorry Dad 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 . . . . . . Sì, non è vero. Grazie. Hey, can I ask you a question? Which orphanage is this? The one in Grant Park? Kinda thought it'd be nicer. I can't do this, okay? I... I can't. You need to. No. You need to be honest about what you see. I was. I have. And now I'm done. Almost. But not yet. You are 12, I am 16. I steal a car and end up in juvie. Gabe, come on. Then you're 13, 14, 15. Orphanages, group homes, musty rooms in the strange houses of foster parents. Alex, by the time you're 17, you've seen them all. Somewhere along the line, you start to feel things. Your own emotions don't belong to you. You have nothing. No one. No one. You are alone. I don't want this. Alex. Play your part. Play my part. You are alone. Here we are Hilarious. And now we are going to write this part. You are going to write this part. The one. Here we are. The one. The one. Yeah. The one. The one. The one. The other. The one. The other. The other. The two. The two. We live. Now, you've seen. Sì. Ha avuto molto. Non so se ci siamo preparati per una... ...troubile... Dice che è sensibile. Cosa è questo? Mi chiedo perché non ha mai trovato una casa. ... 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 Sì? That nobody picked me? Nobody picked you Nobody picked you Nobody wanted you Mom died Dad left I bailed You couldn't keep us together It was my job to keep us You were 11 years old You were 11 years old You were a kid, Alex Let it go People leave Life gets hard Sometimes it's a big shit sandwich Make it better Be angry at Dad Miss Mom No, be angry at me But don't give up No one gets to tell you what you're worth And no one can take your life away Fight I'm not sure I You have a gift It's something you don't even understand You can change the world Make it better Now get up Now get up Get up and fight But don't do it ruin the world I'm not saying I'll be my first I will be your first What? Wait Wait Then Wait a vero non ti erano dai dai almeno il fiammi fuori via cerchiamo di uscire da questa miniera no ma Ho bisogno di trovare un po' fuori da qui. Potrei riuscire a riuscire. E' un piccone che non ci può servire di niente. Non, 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 non ok infatti dai seguiamo sta luce qua rossa qua prima che sparisci anche questa vai alex questa aura è l'unica lead che ho andiamo andiamo ok ok ragazzi stai spiegelati stai spiegelati per la vita non c'è si è così profondo vediamo dove il dino dorme Sì, è vero! Questo è tutto. Questo è quello che Typhon ha cercato a curi. Molto di moisture in questo pollo. Jed, abbiamo un colo. Questo dì è f***ato. Nessun'è f***ato! Jed, non abbiamo dei pumpi a riuscire. No, i miei team non avevano mai perduto un dì così profondamente. Abbiamo finito il lavoro. Sto bene, sti... Sto bene... Mettere! Mettere! C'è l'ho! Chi è la radio? Jed! F***! Jed! 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 Oh mio Dio! Dobbiamo andare! Ora! Ci sono ancora dei uomini qui qui. Sì! Sì! E così siamo noi, se non arriviamo la f***a! Facciamo la chiamata, Jed! Dio d***a! Dio d***a! Dio d***a! Tutti, andiamo! Ora! Cioè, ha negato tutto! Che sembra come fogliari. Cioè, ha dato l'ordine tardi. E di sicuro alcuni non ce l'avranno fatto di sicuro uscire. edo... Sì! 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 Chad! Come back! Chad, you son of a bitch! Chad, you gotta stop, man. Chad! Fuck you, Chad! Come back! It's over, Chad. He's not coming back. I'm sorry. I'm so sorry.